Cari amiche e cari amici, prima di leggervi l'articolo tratto dal primato nazionale che riguarda il viaggio del finto Papa a Bari, volevo tornare a sottolineare il fatto che questo falso Papa a mio parere proprio non crede in Dio, questo è il punto, perché troppe volte nei discorsi ha dimostrato questo, purtroppo i mass media sono dalla sua parte e quindi molti fedeli ancora pensano che Bergoglio, il compagno Bergoglio, sia un vero Papa e lo accolgono come tale, non ricordandosi, o meglio non sapendolo, che il Papa ha chiamato scemo Gesù, ha detto che la Trinità è in perenne litigio e tante tante altre assurdità e blasfemie. Mai una parola per i cristiani trucidati nel mondo e in questa occasione, visto il panico degli italiani, non una sola parola di consolazione e di speranza per gli ammalati in Italia del coronavirus. Eh va bene, passiamo all'articolo. Si intitola Emergenza coronavirus, Bergoglio non cambia disco, i populisti mi ricordano Hitler e Mussolini. L'Italia è in emergenza coronavirus e molte persone, specialmente nelle regioni settentrionali, vivono nella paura di un contagio. Rinchiusi in casa, impossibilitati a muoversi, insomma, Lombardi, Veneti e Piemontesi non se la passano per niente bene. E una parola di conforto forse potrebbe lenire le loro sofferenze. Magari la parola di un papa, massima autorità religiosa sul suolo italiano. E no, Bergoglio, incurante di quello che gli sta succedendo intorno, è in tutt'altre faccende affaccendato. Perché per lui il vero virus, neanche a dirlo, non è il coronavirus, ma il populismo. E così, mentre scatta la quarantena, nel suo discorso presso la Basilica di San Nicola di Bari, Bergoglio torna a parlare di accoglienza e integrazione. Un processo, dice, impossibile da affrontare innalzando muri. Questa è una tempistica che, in effetti, ha dell'incredibile. Dice Bergoglio, a me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo. Ce l'ha con Salvini e Lameloni. E continua. Mi fa paura sentire discorsi che seminano paura e odio. Mi ricordano i discorsi che si sentivano negli anni trenta del secolo scorso. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l'accesso alla ricchezza, in cui l'altro è portatore e che costituisce sempre un'occasione di crescita. Quando si rinnega il desiderio di comunione, iscritto nel cuore dell'uomo, nella storia dei popoli, si contrasta il processo di unificazione della famiglia umana, che già si fa strada tra mille avversità. Queste le parole del Papa. Sembra di sognare. E non tanto perché il Pontefice, in spregio ogni rigore storiografico, insiste sulla favoletta dei leader populisti paragonati a Hitler e Mussolini, quanto perché, mentre ora si rende necessario innalzare barriere sanitarie, Bergoglio continua imperterrito a sciorinarci la sua retorica sull'abbattimento dei muri. Invece di mandare un messaggio di speranza ai suoi fedeli e agli ammalati, Francesco si ostina a fare le sue passarelle propagandistiche. Certo, il personaggio lo conosciamo e non ci sorprende, ma è sempre interessante osservare fino a che punto sono profondi gli abissi della sua mente, una mente fanaticamente, ferocemente immigrazionista. È vero, su questo degli abissi della sua mente rende l'idea, perché questo, abbiamo visto di tutti i colori, che personalmente mai avrei immaginato di vedere tutto quello che ha fatto di osceno e blasfemo questo Papa. Bene, cari amiche e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.